Se siete possessori di un modulo TBS Team Black Sheep che sia integrato, quindi che ne so se avete una Mambo con un Tracer o una Tango 2 con TBS Crossfire integrato oppure semplicemente un modulo TBS, modulo grande, TBS Micro, ragazzi aprite bene le orecchie perché c'è una grossa novità per tutti voi TBS ha appena rilasciato l'ultima versione di TBS Agent M, un'applicazione completamente portabile non solo la potete utilizzare semplicemente da browser web, vi lascio il link qui sotto in descrizione ma la cosa più figa è quella che la potete installare su un device telefonino o tablet e avete sempre a portata di mano un'app che vi consente di modificare tutte le impostazioni ma veramente tutte ma la cosa più figa che con questo ultimo aggiornamento quindi con la versione 1.4.2 ragazzi abbiamo la telemetria io sono Davide benvenuti in questo nuovo video se non l'avete fatto ragazzi iscrivetevi al canale qui in basso cliccate sulla campanellina così riceverete le mie notifiche e pollicione in alto per supportarmi l'ho installata sul mio telefonino, l'ho attestata sul Tracer, l'ho attestata sul Crossfire ed è veramente una figata andiamo a vedere di cosa si tratta per installare e utilizzare correttamente TBS Agent M versione 1.4.2 dovete ragazzi aggiornare sia il vostro modulo Crossfire che il modulo Tracer a una versione che sia almeno un 6.1X quindi va bene 6.10, va bene 6.11, 6.12, 6.13 o la 6.14 che in questo momento sta in beta e poi è importantissimo ragazzi aggiornare il TBS Cloud Wi-Fi firmware che avete all'interno del vostro modulo TBS che sia un Tracer, che sia un modulo integrato, che sia un modulo esterno TBS Crossfire, TBS MicroDX lo dovete aggiornare almeno alla versione 2.0.4 ho fatto un tutorial tempo fa sul Multibind che ha a che fare proprio con questo, ve lo lascio qui sotto in descrizione una volta che avete questi requisiti qui andiamo sul Play Store lo potete fare dal vostro telefonino o dal vostro tablet se è connesso al Wi-Fi e ovviamente andiamo a cercare TBS Agent M, eccolo qui ragazzi e dovete installarlo, ovviamente il mio è già installato e quindi posso fare apri questa è l'interfaccia di TBS Agent M dove avete tutti i vostri dispositivi la prima cosa che dovete sapere è che il vostro device comunica con il vostro modulo TBS mediante il Wi-Fi quello che dovete fare è accendere la radio e assicurarvi che il vostro modulo sia correttamente funzionante andate nelle vostre impostazioni Wi-Fi una volta che il vostro modulo è operativo qui dentro vedrete la rete Wi-Fi che è stata generata proprio dal vostro modulo TBS il nostro Tracer in questo momento è operativo, vediamo se appare la rete, eccola qua infatti vedete in questo caso sto utilizzando il modulo integrato della TBS Mambo cliccate qui dentro, vi connettete, vi si apre questa paginetta solo per darvi la conferma che effettivamente siete connessi ma questa la potete chiudere un'altra cosa che va fatta assolutamente altrimenti non riuscirete a vedere le mappe della telemetria dovete andare nelle vostre impostazioni Wi-Fi adesso vi faccio vedere qui sul mio telefono Android ce l'avrete anche voi, nel mio caso si chiama accelerazione della rete a doppio canale e dovete abilitare connessione di rete intelligente utilizza sia il Wi-Fi che i dati mobili questo è importante, essendo la nostra rete Wi-Fi occupata perché è connessa con il modulo TBS dobbiamo far sì che il nostro device possa utilizzare la connessione internet in questo caso è un telefonino quindi ce la fornirà il nostro provider telefonico così facendo tramite la connessione a internet riusciremo a scaricare le mappe sul nostro telefono e a visualizzarle correttamente torniamo su Agent M eccolo lì ragazzi, quindi il nostro device si posiziona in alto vedete c'è l'icona verde, siamo connessi con la nostra radio possiamo fare veramente di tutto abbiamo la possibilità, vedete, di verificare tutte le impostazioni del nostro Wi-Fi addirittura possiamo fare l'upgrade anche da qui abbiamo la possibilità di andare a fare di tutto sul nostro Tracer e qui possiamo accedere all'RX del Tracer in questo momento non ho ancora acceso il drone quindi non vediamo assolutamente nulla stessa cosa se premete qui abbiamo accesso alla telemetria in questo momento visualizzate il punto dove si trova il mio modulo perché? perché ragazzi sul mio telefonino è attivo il GPS quindi se attivate il GPS lui identifica il vostro dispositivo in quest'icona abbiamo proprio il punto dove si trova il nostro device attenzione non il nostro modulo ma dando per scontato che state vicini è la posizione anche del pilota e quindi della vostra radio vi faccio vedere che anche qui ci stanno tutta una serie insomma di impostazioni potete andare a personalizzare un po' di metriche e via discorrendo attiviamo il nostro drone così vi faccio vedere la telemetria in questo momento vedo che è operativo anche la mia RX del Tracer sul drone e quindi ho la possibilità insomma di andare a toccare tutte le varie impostazioni anche del Tracer ma attenzione attenzione cliccando sulla telemetria ragazzi in questo momento guardate tutti i valori si stanno muovendo stiamo ricevendo la telemetria dalla nostra RX perché la RX oltre che a ricevere il segnale trasmette anche indietro i dati di telemetria al modulo e mediante la connessione wifi li stiamo visualizzando qui cioè una cosa fighissima guardate c'è tutto batteria ci sono gli ampere consumati ci sono anche dati che io sul mio OSD non ho configurato e posso vedere tutto in questo momento quello che state vedendo è proprio il mio telefonino connesso con Deadcat Evo che ha il GPS la cosa bella è che avete a disposizione anche la posizione del drone e quando il drone si muove lo vedete muovervi sulla mappa e traccia anche un suo percorso la retta nera ci dice la direzione del muso del drone ok? il percorso che vedete in blu è il percorso del drone che ha tracciato ok? nello spazio ogni tot di tempo viene salvato un punto all'interno di un file di tipo geo json che viene addirittura salvato nella cartella download del vostro dispositivo e quindi con questo file potete anche divertirvi con delle applicazioni esterne quindi vedervi per esempio la rotta che avete fatto e tanti altri tool che trovate sul web in questo caso io ho caricato semplicemente il mio file json aprendolo con il blocco note l'ho caricato direttamente su la pagina web json viewer stupidissima però vedete vi rifà vedere tutto il percorso che avete fatto effettivamente nella realtà cioè una cosa molto molto figa un consiglio che vi do ragazzi è quello sempre di accendere prima la radio connettervi con il wifi e dopo aprire agent M e solo all'ultimo quando vedete che siete connessi al wifi del vostro modulo TBS che sia integrato o meno solo dopo questo passaggio andate ad attivare il drone perché ho visto che a volte specie con il tracer se non seguite questa procedura ogni tanto si impalla la potete utilizzare veramente in tantissimi modi ma me ne viene in mente uno su tutti ragazzi long range quando prendete e decollate se non avete un altro visore o vedi ad esempio se utilizzate il digitale che è sempre un pochettino complicato andare a condividere tutte quante le informazioni dell'OSD aprite TBS agent M connettete il vostro device al vostro modulo TBS date il device ad un amico ad un compagno a chi volete voi e quella persona diventa un copilota perfetto perché vede tutti quanti i dati della telemetria e se avete il GPS vede pure il drone che si muove nello spazio che si muove sulla mappa una cosa fighissima andatela a scaricare installatevela andate a divertirvi e noi ci vediamo alla prossima DAIE DAIE Grazie a tutti